Gianluca Benincasa incontra la ex Antonella Fiordelisi un locale, la reazione della ex Geffina. Antonella Fiordelisi e l'ex fidanzato Gianluca Benincasa si sono rivisti dopo oltre sei mesi. A raccontare l'episodio è stato l'imprenditore campano che ha rivelato sui social di avere ritrovato la ex per caso. Ma la concorrente della ultima edizione del Grande Fratello VIP sembrerebbe non avere gradito. Tanto da avere abbandonato in fretta e fuori il locale all'interno del quale si trovava con alcune amiche. Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano, 22, 45, ero lì per salutare una ragazza Giulia, e niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in due minuti solo con la mia presenza, e questo il testo del tweet pubblicato da Benincasa sui social per raccontare l'incontro con la ex. Gianluca non fa mai il nome di Antonella ma il riferimento alla attuale compagna di Edoardo Donnamaria è chiaro. Nessun commento è arrivato, invece, da parte di Antonella che ha preferito non commentare l'episodio. Gianluca ha rivelato pubblicamente di essere stato fidanzato con Antonella Fiordalisi fino a qualche ora prima dell'ingresso della influencer salernitana nella casa del Grande Fratello VIP. Circostanza che, al contrario, Antonella ha sempre negato. Benincasa sostiene di avere retto il gioco alla sua ex. Permettendole di dichiararsi single per avere maggiori possibilità di partecipare al programma. Una volta nella casa di Cinecittà, però, Antonella ha conosciuto Edoardo Donnamaria. Volto di forum con il quale da mesi fa coppia fissa. La relazione tra i due prosegue anche adesso che il reality è terminato. Fiordalisi non ha mai replicato alle dichiarazioni del suo ex, né ha commentato le accuse rivolte al giovane da suo padre. Stefano Fiordalisi. La vicenda, dal punto di vista di Antonella, sarebbe da considerarsi conclusa. Ma Gianluca ha fatto sapere in più di un'occasione di non avere ancora intenzione di mettere un punto a questa storia. Intende raccontare la sua verità a proposito di quel legame.